Compie 80 anni la leggenda nerazzurra Sandro Mazzola, un calciatore simbolo che ha legato indissolubilmente la sua carriera all'Inter e alla Nazionale. In 17 stagioni ha giocato 565 partite in Serie A e segnato 158 reti. Ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. In Nazionale ha conquistato l'Europeo del 68 e due anni dopo è stato protagonista di Messico 70, il mondiale della staffetta con Gianni Rivera. Due uomini sempre messi contro per colpa della staffetta azzurra del Messico 70, in realtà sempre rimasti due amici, due persone che si sono sempre confrontate, ancora oggi si sentono e si possono, si vedono e chiaramente sono due personaggi che hanno incarnato soprattutto un calcio fatto di sentimenti, di valori forti che oggi si sono persi. Figlio di un altro mito, il capitano del grande Torino Valentino Mazzola, Sandro Mazzola è stato anche insieme a Gianni Rivera il fondatore del sindacato dei calciatori e ed è tuttora un punto di riferimento dello sport italiano. Oltretutto poi c'è una cosa molto importante, il rapporto anche con la fede da parte di Mazzola, il quale grazie al mago ebbe l'occasione di incontrare Padre Pio e ci fu una sorta di conversione da quel momento, sia per il mago sia per lui, un punto di riferimento, un uomo a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà del calcio.